La tragedia all'alba di oggi a Pieve del Grappa in provincia di Treviso a perdere la vita la 22enne Miriam Ciobanu che aveva vissuto in Friuli fino al 2007, aveva litigato col fidanzato e rientrata a casa a piedi ma è stata investita da un 23enne che è risultato poi positivo dagli esami tossicologici, il giovane ora è stato di arresto per omicidio stradale. Clima da coprifuoco tra Via Roma, Via Lopardi e la stazione ferroviaria di Udine con i pattugliamenti dell'esercito disposti nell'ottica di rafforzare i controlli dopo gli episodi di violenze e danneggiamenti, saremo live da Borgostazione. La Cimolai S.P.A. di Pordenone avrebbe trovato due gruppi imprenditoriali pronti a entrare come partner dell'azienda per tentare di salvarla dal crack, prevista anche una ricapitalizzazione di almeno 100 milioni di euro da parte di Luigi Cimolai. Nonostante le difficoltà economiche del momento in tanti hanno deciso di trascorrere questo ponte di ogni santi negli agriturismi della nostra regione, non prima però di aver fatto visita ai propri cari defunti nei cimiteri. Buona serata e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV, l'avete sentito dai titoli. In primo piano l'ennesima tragedia sulle strade della marca trevigiana, la provincia in Italia che negli ultimi mesi ha registrato più incidenti mortali, vittima una 22enne originaria di Tolmezzo che ha vissuto fino al 2007 in Friuli e che poi si era trasferita con la famiglia in provincia di Treviso. Ha perso la vita travolta da un'auto mentre rientrava a casa all'alba di oggi lungo il ciglio della strada. È stato fermato e arrestato l'automobilista, sottoposto ai controlli, risultato positivo sia all'alcol sia all'assunzione di sostanze stupefacenti. Il servizio di Angela Caino. Camminava sul ciglio di una strada buia, senza illuminazione. Un'automobilista non si è accorto della sua presenza e l'ha investita mortalmente. A perdere la vita poco prima dell'alba, erano le 4.30 del mattino in via Vittorio Veneto, a Paderno di Pieve del Grappa, una ragazza di 22 anni, Miriam Ciobanu, originaria di Tolmezzo, ora residente a Fonte, in provincia di Treviso. La giovane aveva vissuto in Friuli fino all'età di 7 anni, prima di trasferirsi con la famiglia nella marca. Al volante dell'Audi A3, che l'ha investita, c'era un 23enne di San Zenone degli Ezzellini, che è stato arrestato in flagranza del reato di omicidio stradale aggravato. Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri di Castelfranco Veneto sul luogo della tragedia. L'uomo aveva un tasso alcolemico nel sangue pari a 1.5 ed è risultato positivo anche al test sugli stupefacenti, guidava sotto l'effetto di cannabinoidi. Da chiarire perché la giovane vittima stesse camminando da sola verso casa a quell'ora. Secondo la madre, potrebbe aver avuto una lite con il fidanzato dal quale avrebbe dovuto passare la notte. Ricorderete un'altra tragedia simile avvenuta lungo l'autostrada A28 ad Azzano Decimo nel gennaio scorso. In quella circostanza persero la vita due giovani cugine venete che erano state tamponate da un uomo poi arrestato. Ebbene, a margine di quell'inchiesta è stato accertato che anche l'uomo, l'imprenditore bulgaro Dmitri Trajkov, condannato a sette anni di reclusione per omicidio stradale plurimo, fuga e omissione di soccorso di due giovani cugine venete sulla A28 ad Azzano Decimo, adesso è anche indagato per evasione fiscale. La procura di Pordenone infatti gli ha sequestrato preventivamente 87 mila euro in contanti a seguito di una lunga indagine della Guardia di Finanza, scattata proprio dopo l'incidente lo scorso mese di febbraio. Secondo le fiamme gialle si configurerebbe l'esterovestizione della società di trasporti gestita dall'uomo che possiede oltre 200 tir a sede legale in Bulgaria ma di fatto opererebbe dall'Italia senza pagare le tasse. In Friuli la Trajkov Trans ha sede nella zona industriale di Chions. Gli 87 mila euro inizialmente dissequestrati dai giudici del Tribunale del Riesame sono stati nuovamente congelati sempre a titolo preventivo con un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari. La procura è scritto sul registro degli indagati il legale rappresentante della società e relativamente alla responsabilità amministrativa la stessa azienda. Le indagini proseguiranno per approfondire il giro d'affari dell'azienda di Trajkov e inquadrare la sua attività in Italia. Ora andiamo ad occuparci di Borgostazione, una delle zone più calde della città di Udine che come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane è stata al centro di diversi episodi di violenze e danneggiamenti. Proprio per questo c'è stato un tavolo in prefettura per aumentare il livello dei controlli da parte delle forze dell'ordine con l'inserimento anche dell'esercito nei pattugliamenti di queste zone a rischio. E noi per fare il punto della situazione siamo in collegamento live proprio con Angela Caino. Buonasera Angela. Buonasera Davide, a te e ai nostri telespettatori. Controlli potenziati, sì, è in Borgostazione dopo il comitato per l'ordine pubblico e della sicurezza convocato dal prefetto nei giorni scorsi. Dicevi anche tu il mezzo dell'esercito della brigata Ariete che da qualche giorno, dalla notte fra il 30 e il 31, controlla questa zona 24 ore su 24, facendo la spola tra Borgostazione e anche la caserma Cavarzerani. Controlli potenziati, ci sono anche le altre forze dell'ordine, i carabinieri, la polizia locale. In questo momento ci sono i carabinieri in azione e vedete infatti in lontananza proprio i lampeggianti dei carabinieri. Forse avete visto nelle nostre immagini che Romano Urbani ha registrato poco fa anche l'immagine del mezzo dell'esercito che è in servizio 24 ore su 24 proprio sul territorio. Noi siamo venuti qui pronti per raccontarvi tra virgolette una situazione di relativa tranquillità. In realtà fino a quando non si viene sul posto, non si può dire nulla, non si può sapere quello che accade. Infatti vi possiamo raccontare che appena arrivati in zona abbiamo assistito a una violenta lissa tra tre persone, tre persone straniere che si sono azzuffate e si sono date dei pugni. Una lissa abbastanza importante, abbastanza violenta. Poi le tre persone si sono dileguate. Adesso non siamo ancora riusciti a capire se i carabinieri sono riusciti a fermarli oppure no. Comunque la situazione in Borgo Stazione a nostro avviso non è proprio così tranquilla. I controlli, la presenza delle forze dell'ordine sicuramente aiuta. Erano stati chiesti proprio dagli esercenti della zona per dare una sensazione di maggiore sicurezza in questa zona, però possiamo dire che c'è molto da lavorare perché la zona è abbastanza grande, le persone si muovono velocemente e quindi non è facile anche essere presenti proprio su tutto il territorio. Questo è quello che possiamo raccontarvi questa sera da Borgo Stazione. Davide, se non hai domande, io e l'operatore Romano Urbani vi restituiamo la linea. Grazie, grazie davvero per questa testimonianza. In tempo reale avete visto, possiamo anche rivederle grazie alla regia, le immagini che abbiamo registrato proprio sul posto delle quale ci stava raccontando la dinamica Angela Caino. Questa rissa che è avvenuta tra due giovani proprio all'esterno della stazione ferroviaria, immagini registrate pochi minuti fa e che dimostrano dunque quanto sia alto ancora il livello di attenzione da porre in zona Borgo Stazione, così come ci ricordava anche Angela Caino, con l'impegno da parte delle forze dell'ordine, il rafforzamento dei controlli disposto dalla prefettura con il supporto, ora di questo pattugliamento dell'esercito accanto alla polizia locale, ai carabinieri, alla guardia di finanza, alla polizia di Stato che hanno operato soprattutto nelle ultime settimane con diversi interventi, con controlli quotidiani, ma l'attenzione deve rimanere alta anche perché in questa zona della città abitano diversi residenti che hanno sofferto soprattutto negli ultimi anni questo clima difficile, sono loro così come gli esercenti, a richiedere maggiore sicurezza, maggiore controllo, vedremo dunque se arriveranno anche nei prossimi giorni altri risultati per frenare questi fenomeni di microcriminalità. Grazie davvero alla nostra troupe Angela Caino e Romano Urbani, noi proseguiamo con il notiziario andando a raccontarvi tutti gli altri fatti di giornata racchiusi nelle nostre Flash News. La squadra mobile di Trieste attende l'esito dell'autopsia per avere qualche elemento di dagine in più sulla morte di una donna, cittadina italiana di 33 anni, trovata senza vita sabato in un salone da parrucchiere di proprietà di un cittadino pakistano di cui la donna era dipendente. Il corpo è stato rinvenuto all'interno del negozio, il salone Dream di via Ugo Foscolo, dopo alcune segnalazioni di parenti che non avevano notizie della donna da diverse ore e di clienti che avevano trovato il salone chiuso. Sul corpo della donna non sono stati trovati segni evidenti di violenza. Notte impegnativa per gli infermieri della Sores, chiamati a gestire tanti interventi legati ai festeggiamenti di Halloween, ma fortunatamente senza criticità sanitarie importanti. Alla Tisana, in località Crosere, poco prima delle 23.30, un'auto è finita a ruote all'aria. Il guidatore e i tre passeggeri erano già usciti dal mezzo all'arrivo dei soccorsi. Due di loro sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di La Tisana, in codice verde, meno gravi, gli altri due sempre a La Tisana. Un 22enne di Pordenone e una quarantenne di Belluno sono stati soccorsi attorno a mezzogiorno sulla ferrata Tomaselli, sulla cima Fanis Sud. I due hanno trovato un tratto ghiacciato e non erano attrezzati per superarlo senza rischi. Hanno quindi deciso di chiamare i soccorsi. L'elicottero del suo M di Pieve di Cadore li ha individuati a circa 2.970 metri di altitudine ormai quasi in vetta. Sono stati recuperati con il verricello, non senza difficoltà, a causa delle forti raffiche di vento in quota. Entrambi sono stati lasciati al passo falzarego. Versa in condizioni serie un uomo di oltre 80 anni di età che questo pomeriggio, intorno alle 17, è caduto da un albero del giardino da un'altezza di circa 3 metri, è rovinato a terra riportando lesioni gravi. Sul posto un'ambulanza proveniente da Gemona e l'elisoccorso che ha trasportato il ferito in volo, in codice giallo, all'ospedale di Udine. Proseguono le operazioni di messa in sicurezza del porto canale di San Giorgio di Nogaro, interessato dallo sversamento di una sostanza inquinante oleosa domenica notte, quando era stato segnalato un forte odore di gasolio. Sul posto guardia costiera e protezione civile. Domani entreranno in azione le ditte autorizzate per l'aspirazione della sostanza inquinante e per liberare il porto canale dalla macchia oleosa. Lutto nel mondo dell'imprenditoria del nord-est si è spento all'età di 88 anni Pasquale Bergamin della dinastia degli omonimi mobilifici di Veneto e Friuli. Era ricoverato all'ospedale di Porto Gruaro, lascia la moglie Laura e figlie Eva e Massimo. I funerali saranno celebrati giovedì alle 11 nella chiesa di Sant'Agnese a Porto Gruaro. Quinto degli otto figli di Alessandro Bergamin era nato nel 1934, aveva frequentato il topo Wasserman a Udine conseguendo il diploma di ragioneria. Poi decise di aprire subito un negozio di casalinghi a Porto Gruaro e da lì con il compianto fratello Danilo, suo braccio destro, Pasquale Bergamin diede il là all'impero del mobile con gli iconici negozi rossi disegnati dall'architetto dinese Gino Valle. Tra questi ricordiamo quelli di Lattisana e Magnano in Riviera in Friuli. Un'altra storica realtà del Friuli, del mondo dell'imprenditoria friulana, la Cimolai che sta attraversando un momento molto complicato. Potrebbero esserci due gruppi però pronti a entrare come partner dell'azienda per tentarla di salvare dal crack. Continua la corsa contro il tempo della Cimolai S.P.A. di Pordenone per salvare l'azienda dal crack causato da una serie di operazioni sui derivati che hanno generato un buco di 210 milioni di euro ai quali vanno aggiunti altri 500 milioni di euro di esposizioni con le banche. Secondo indiscrezioni infatti l'advisor finanziario Lizard avrebbe individuato due partner italiani ed esteri che sarebbero pronti a entrare come soci garantendo un'iniezione di capitali a cui sommare la ricapitalizzazione da parte di Luigi Cimolai di almeno 100 milioni di euro. La Cimolai S.P.A. è fiduciosa inoltre sul buon esito della richiesta di concordato presentata in bianco al Tribunale di Trieste. Il pool di legali dell'azienda leader a livello internazionale nel campo delle costruzioni metalliche complesse inoltre avrebbe individuato alcuni contratti legati ai derivati firmati dall'ex direttore finanziario che sarebbero stati stipulati con delle irregolarità. L'obiettivo è quello di portarli in tribunale a Londra il foro competente e cercare di annullarli. Si tratterebbe di contratti sottoscritti non con istituti di credito ma con società intermediarie. Un procedimento che non avrà tempi brevi e che allungherà le tempistiche per mettere in sicurezza l'azienda e i suoi 1.100 dipendenti. Oltre l'oceano continuano gli incontri negli Stati Uniti per la promozione dell'Italia e delle sue peculiarità con il Friuli Venezia Giulia protagonista. Dopo il governatore Fedriga anche il presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine Giovanni D'Apozzo nella sua veste di presidente di Promos Italia ha partecipato a Washington presso l'ambasciata d'Italia al first meeting del Transatlantic Investment Committee obiettivo valorizzare la piattaforma di relazioni a livello internazionale. Le piccole e medie imprese italiane in vetrina negli States. Si è svolto a Washington presso l'ambasciata d'Italia il primo incontro negli Stati Uniti del Transatlantic Investment Committee, programma nato per volere dell'Associazione Amerigo, dell'American Chamber of Commerce in Italy, del centro studi americani e di Federmanager. L'obiettivo è rafforzare i legami tra i due paesi nel campo dei co-investimenti strategici previsti dall'accordo per il commercio e le tecnologie siglato da Unione Europea e Stati Uniti nel settembre 2021. All'appuntamento ha partecipato Giovanni D'Apozzo, presidente di Promos, l'agenzia che supporta le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione. Il mercato americano rimane uno dei mercati principali e fondamentali per l'export italiano. Sotto il brand Made in Italy noi troviamo fashion, food, mechanical, tutto quello design, creativity, tutto quello che le piccole e medie imprese riescono ad affascinare, un mercato così importante e così denso di ricerca nei confronti dei prodotti italiani. Entriamo in regione, nonostante il periodo economico difficile, in molti hanno deciso di trascorrere la giornata odierna. Ogni santi tra gli agriturismi del Friuli Venezia Giulia per riscoprire anche molte peculiarità culinarie del nostro territorio. È questa la stagione delle zucche, dei funghi e delle castagne, ma anche della macellazione dei maiali, della brovada, dei primi radicchi. Tutti i prodotti che riempiono le tavole degli agriturismi del Friuli Venezia Giulia in questo ponte di ogni santi, che ha visto l'arrivo in regione di tanti turisti, soprattutto da Austria e paesi dell'Est. Il caro vita non ha cancellato la voglia di concedersi un po' di relax scoprendo o riscoprendo le tradizioni anche inogastronomiche del nostro territorio, al Vio Pituello, agri-chef di Coldiretti. Sta andando molto bene sia il periodo di questo ponte, sia tutto il periodo ottornale, settembre-ottobre. La gente ha approfittato di queste belle giornate per poter uscire, approfittando anche i nostri agriturismi di sfruttare la possibilità di mangiare all'aperto. Sul fronte prezzi come siamo? Abbiamo dovuto fare dei piccoli ritocchi per un po' sopperire a questi aumenti dei costi energetici. La gente comunque sa che c'è questa situazione di difficoltà per le imprese, per le aziende e quindi non si lamenta o comunque non rinuncia all'uscita fuori porta. Cosa si mangia nel giorno di ogni santi in agriturismo? Il giorno di ogni santi, ma oggi da fare un po' di padrone la zucca e quindi abbiamo preparato sia dei gnocchi di zucca, poi tutti i piatti tipici che sono il cottecchino con la brovada, il frico. Io per tradizione, il giorno di ogni santi, voglio preparare il giuff, quasi una polenta fatta con il latte, la zucca, viene schiacciata la zucca, viene messa, io metto la farina di polenta, la faccio cuocere per 45 minuti, poi oggi, una volta veniva servita o calda con del latte freddo, oppure fredda e riscaldata con del latte caldo. Oggi un po' l'abbiamo arricchita, quindi la serviremo calda sì, ma con una crema di montasio per valorizzare questo nostro formaggio del Friuli Venezia Giulia. A proposito di celebrazioni, quest'oggi a Gonars si sono ricordate le 453 vittime tra sloveni e croati del campo di concentramento costruito proprio nella località della bassa friulana, con anche una novità lanciata dal sindaco di Gonars. A Gonars per commemorare fatti avvenuti alla fine della seconda guerra mondiale, dove videro vittime della violenza nazifascista, popolazioni provenienti dalla Slovenia, dalla Croazia, che qui avevano un campo di internamento. E a dire che, insomma, passano gli anni, si allontana nel ricordo questi avvenimenti, ma rimangono molto vivi e insegnano ancora oggi che in Europa sta vivendo la guerra, cosa vuol dire la convivenza civile fra popoli diversi, che parlano lingue diverse, ma che sono fondamentali talmente presenti in uno spicchio di Europa comune, di pari identità, cultura, storia. E quindi è il lancio, non è per il passato, ma è per il futuro. Dobbiamo guardare a questa convivenza, alla capacità di confrontarsi, di parlarsi, di gettare i ponti come elemento fondamentale per la costruzione dell'Europa del domani, che adesso è un'Europa non degli stati, ma delle comunità e delle regioni. Sì, la novità di quest'anno è che vorrei realizzare un monumento ad unione tra i tre stati, Slovenia, Croazia e la Repubblica Italiana, per far sì che le frontiere non ci devono essere mai più, ma si devono costruire i ponti. Questo monumento sarà realizzato con il simbolo della bandiera bianca e sarà realizzato con il simbolo dei ponti, appunto a dimostrazione di questa volontà, forza di unione tra i tre stati. La Croazia in questo momento ha già aderito a questa iniziativa, fra poco farà l'ufficialità del tutto e mi auguro che anche la Slovenia aderisca quanto prima a questa importante iniziativa. Nella giornata degli Ogni Santi l'Arcivescovo di Udine Mazzocato ha presieduto stamattina una solenne liturgia in cattedrale, poi nel pomeriggio ha celebrato i Vespri al cimitero di San Vito. C'è chi porta un vaso di crisantemi, chi solo un fiore, chi si ferma davanti a una tomba per una semplice preghiera. Tante le persone che oggi, in occasione della festa di Ogni Santi e domani, 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti, si reccano nei cimiteri anche della nostra regione per ricordare i propri cari. La festa di tutti i Santi ci porta a ricordare volti e nomi di persone che abbiamo impresse nella memoria e nel cuore, ha detto l'Arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzocato durante le celebrazioni di oggi. Al mattino la messa in cattedrale e nel pomeriggio i Vespri nel cimitero monumentale di San Vito, seguiti dalla benedizione delle tombe. Sono tanti quei cristiani che la Chiesa ha ufficialmente canonizzato perché restassero di esempio alle generazioni future, ha aggiunto Mazzocato, ma in questa celebrazione ricordiamo anche altri Santi che abbiamo conosciuto perché ci sono stati fisicamente e affettivamente vicini, quelli che Papa Francesco ha definito i Santi della Porta Accanto. Questi due giorni, ha detto ancora l'Arcivescovo, ci ricordano la speranza cristiana di un'esistenza che non finisce qui sulla terra ma continua nella vita eterna e chiamano i fedeli a pregare per chi deve ancora compiere questo passaggio. Dopo la cerimonia di oggi in cimitero l'Arcivescovo presiederà una Santa Messa anche domani sera alle 19 in Cattedrale a Udine in ricordo di tutti i defunti. Per chi si reca nei cimiteri sempre valido l'invito a non lasciare nelle automobili oggetti preziosi o altro che possa attirare l'attenzione dei malintenzionati. Da Udine ci trasferiamo a Gorizia con il sindaco Rodolfo Ziberna che ha lanciato oggi una richiesta di aiuto al governo. Va bene la nomina della Savino Sottosegretario, il Friuli Venezia Giulia non è mai stato così rappresentato e nei prossimi giorni ci sarà una richiesta a diversi ministri del governo per affrontare le opportunità e le criticità del nostro territorio chiedendo loro un incontro di approfondimento. Con il ministro della Cultura non parleremo solo di risorse ed eventi ma anche del personale della biblioteca statale Isontine e della sovrintendenza, ha detto Ziberna, senza i cui pareri le opere pubbliche non partono. Con il ministro della giustizia affronteremo il problema anche dell'organico del tribunale, della procura e del carcere importante è pure l'incontro con il ministro delle infrastrutture. Argomenti che tratteremo saranno anche il rafforzamento dell'organico, delle forze dell'ordine, particolarmente sotto stress nella nostra area ma anche i corsi universitari di respiro europeo e di importanti strumenti come la Zese, oltre alle criticità di una frontiera che soffre una diversa fiscalità d'oltre confina, concluso, governa. Ziberna, ci trasferiamo a Pordenone, ora a Chions in particolare dopo molti anni di attesa si va verso la realizzazione della variante di Chions e si chiede di accelerare al più presto le opere. La giunta regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica della bretella di Villotta, la variante di collegamento tra la strada regionale 251 della Valcellina, via Primo Maggio e la strada provinciale a Villotta di Chions. Il presidente Massimiliano Fedriga ha annunciato lo stanziamento di 2.770.000 euro, mentre l'opera complessivamente costerà 4.582.000 euro. L'esecuzione dei lavori sarà affidata a FVG Strade, nelle cui casse ci sono già 1.800.000 euro, stanziati dalla precedente giunta a Serracchiani proprio per la realizzazione della bretella. Si tratta di un'opera che i cittadini di Chions attendono da oltre 30 anni per sgravare la centrale via Vittorio Veneto a Villotta, dove sorge il municipio, dal traffico pesante e liberare quindi il centro cittadino dal relativo inquinamento e migliorarne la sicurezza stradale. Il progetto, finora realizzato, prevede due rotatorie, una in via Primo Maggio all'innesto con la A28 e l'altra sulla regionale 251, accanto al cimitero di Villotta-Basedo. Tra le due rotatorie nascerà la bretella, circa un chilometro di strada a sud-est delle vie Cividale e Osoppo. A stretto giro dall'annuncio di Fedriga è arrivata l'interrogazione sul tema da parte del consigliere regionale dei cittadini Tiziano Centis, relativa al cronoprogramma dell'intervento. Centis chiede infatti che l'opera non subisca ulteriori rallentamenti e che venga realizzata in tempi certi. I passi successivi prevedono la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, la sua approvazione e infine l'appalto dei lavori. Regione che ha stanziato anche diverse risorse per la ristrutturazione dei centri giovanili della Friuli Venezia Giulia. L'aggiunta regionale ha stanziato 5 milioni per i centri giovanili del Friuli Venezia Giulia. Il provvedimento consente di effettuare alcuni interventi all'interno di alcune strutture parrocchiali presenti su tutto il territorio. Il finanziamento riguarda 31 centri di aggregazione giovanile alla quale saranno destinati parte dei fondi che serviranno a riqualificarli e renderli più efficienti. I fondi sono stati suddivisi in tutta la regione, compresa la provincia di Pordenone. 53.887,40 euro saranno destinati alla parrocchia di San Giovanni Battista di Polcenigo per dei lavori di manutenzione della sala polifunzionale di Piazza Maggiore. 52.932 euro saranno invece destinati alla parrocchia di Sant'Andrea Apostolo a Cordovado per il rifacimento della copertura dell'ala destra del palazzo Mainardi. 178.000 euro andranno a Spilimbergo per lavori di manutenzione presso il centro giovanile Monsignor Lorenzo Tesolin. Riapre al pubblico Casa Serena, una delle case di riposo che era finita al centro delle polemiche nel periodo acuto del Covid e riapre con un evento unico la sfilata delle nonne della moda. Con l'evento Casa Serena Fashion Week sabato pomeriggio alle ore 16 l'Asp Umberto I di Pordenone riaprirà ufficialmente la casa di riposo alla cittadinanza dopo gli anni di emergenza sanitaria. Si tratta di una prima volta di un evento che si è voluto simpaticamente chiamare Nonne alla Moda Casa Serena Fashion Week e che si terrà nella grande salone della struttura residenziale. L'iniziativa è nata da un'idea delle operatrici in collaborazione con la stilista pordenonese Cinzia Cibin, in arte e la Cibi, suoi i 30 capi originali che verranno indossati in passerella. L'invito a far parte del pubblico della sfilata è rivolto a familiari, amici, volontari ma anche ai cittadini. Per l'accesso in struttura bisognerà esibire il Green Pass e indossare la mascherina FFP2. L'Asp Umberto I punta in questo modo ad abbattere lo stereotipo che caratterizza spesso le case di riposo, quali luoghi conservativi e convenzionali. E rompe gli schemi, dando la possibilità agli anziani di emergere con la loro personalità e in piena libertà. Ad accompagnare la sfilata ci sarà una colonna sonora coinvolgente, mentre a chiusura dell'evento verrà offerto un momento di convivialità. Non sarà un evento una tantum. Gli operatori stanno già pensando ad una sfilata primaverile sulla scalinata esterna di Casa Serena. La pagina degli spettacoli continuano gli appuntamenti con il Festival Internazionale di Musica Sacra che vedrà protagonista l'Orchestra Giovanile dei Filarmonici Friulani. Duplice appuntamento per il secondo concerto in cartellone della 31esima edizione del Festival Internazionale di Musica Sacra. Il concerto in programma per due serate, giovedì 3 novembre a Pordenone nella chiesa concatedrale di San Marco e venerdì 4 novembre a Udine nella Sala Madrassi. Le due serate sono affidate all'Orchestra Giovanile i Filarmonici Friulani, integrata da due solisti. All'affisarmonica Francesco Gesualdi e al violoncello Giovanni Ricciardi con direzione del maestro Alessio Venier. La produzione segue il filo rosso del Festival dedicato al tema del Filius e si dispiega su un programma di respiro europeo a partire dalle Sibenvorte del 1982 di Sofia Guba Idulina per poi concludersi con il Cantus in Memoriam Benjamin Britten composto da Arvo Pert nel 1977 e il quartetto numero 8 di Dimitri Sostakovic. L'ingresso è gratuito. La 31esima edizione del Festival internazionale di musica sacra proseguirà fino al 17 dicembre. Siamo in chiusura, vi ricordiamo gli appuntamenti per la serata su Udinese TV con alle 21.15 il ritorno di Tag in Comune, la trasmissione del Poma che stasera ci racconterà la comunità di Coseano. A seguire alle ore 21.45 come ogni martedì ritorna l'appuntamento con il Basket con Massimo Campazzo per parlare di Apu Oldwell West e Gesteco Cividale, le due compagini della nostra regione impegnate nel campionato di Serie A2. Per quanto riguarda l'informazione invece l'appuntamento col TG Notte alle 22.30. Grazie per averci seguito, ora le previsioni del tempo e l'augurio di una buona serata. Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e gli amici di Udinese TV. Giornata di mercoledì caratterizzata da un po' di variabilità su tutto il territorio friulano. Avremo infatti cieli sereni o parzialmente nuvolosi specie nelle prime ore del mattino, ma vediamo nel dettaglio la provincia di Pordenone e Udine. Tempo variabile su entrambe le province con cieli velati o al più qualche nube irregolari specie nella seconda parte della giornata. Contesto meteorologico che si manterrà comunque sempre molto mite con temperature massime tra i 21 e i 22 gradi. Situazione analoga anche per quanto riguarda la provincia di Gorizia e Trieste dove però nella seconda parte della giornata saranno attese piogge e rovesci. Temperature massime sempre molto miti con valori compresi tra i 20 e i 21 gradi. Per dettagli ulteriori scaricate la nostra app di Trevi Meteo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.